Allora, cari amici, oggi vi racconto una storiella che ho sentito da un altro youtuber americano il quale ha raccontato la storia di un suo conoscente e da questa storia lui ha tratto un insegnamento per le donne più che altro Allora, che cosa ha fatto questo tizio? Questo tizio ha cinque figli, cinque bambini, piccoli ancora, avuti con cinque donne diverse Quindi lui, che cosa ha fatto? Si è, diciamo, relazionato in queste modalità del cavolo con queste cinque donne e volontariamente, cioè non è che sono capitate perché lo spirito santo l'ha portato Volontariamente, lui, nel momento in cui cominciava una relazione con queste qui cominciava a parlare di bambini, di fare bambini, di avere figli e quant'altro e queste qui, che sono, diciamo, state un po' sprovvedute da questo punto di vista ovviamente hanno ceduto nonostante sapessero già la prima al di là della prima, che insomma era la prima ma già la seconda sapeva che lui aveva un altro figlio con la prima la terza sapeva che lui aveva i santi figli con le prime due eccetera eccetera quindi, nonostante questo loro hanno consentito ad avere, a fare figli con questo qua ok? Allora, qual è il morale della faula? Lui che cosa ha detto? Ha detto, voi dovete stare molto attente quando un uomo vi comincia a parlare di famiglia di bambini, di queste cose qui prima che però abbia parlato di impegni seri quindi, nessuna di queste è sposata con quest'uomo quindi, tutte e cinque hanno consentito ad avere figli in questa maniera, diciamo, improvvisata senza avere nessun tipo di garanzia di, come dire, di sicurezza, di stabilità nessun tipo di cosa ma in primis loro non avevano certezze neanche sui sentimenti di questa persona perché, secondo voi, un uomo che fa una cosa del genere è coinvolto con qualcuno di queste? No, ovviamente no perché, ovviamente, lui che cosa diceva? Lui diceva, e questo è un uomo che parla quindi io vi sto portando dal punto di vista maschile lui ha detto guardate che quando un uomo è coinvolto seriamente lui, come prima cosa, pensa, diciamo, alla coppia cioè, prima della famiglia viene la coppia quindi lui, se veramente ci tiene a voi come prima cosa vi porta in un rapporto con una certa stabilità con una certa garanzia e ha aggiunto ha aggiunto lui è sposato questo qui ha detto quando io ho trovato la donna della mia vita come prima cosa ho pensato a costruire un qualcosa di stabile per lei cioè per lei e per noi, insomma ho pensato come prima cosa ad assicurare il tetto sulla testa le sicurezze economiche tutte queste belle cose qui perché poi, chiaramente andando incontro diciamo alle cose future sapevo che ci sarebbe stato bisogno di questo perché io come uomo istintivamente la mia energia maschile mi porta a proteggere la donna e poi a proteggere la famiglia che viene dopo quindi come prima cosa viene il mio istinto protettivo verso la donna ok questo tizio invece che ha poi sentite che cosa fa questo qua lui tranquillamente la sera ogni sera magari vada una diversa con la scusa di vedere il bambino vada dalla numero uno una sera di lunedì vada la numero uno si fa la cena si fa il doposcena vede i bambini e poi se ne torna a casa e poi se ne torna a casa il martedì vada la numero due si fa la cena dopo cena e poi se ne torna a casa contribuisce ben poco sinceramente perché poi chi è che ha chi è che si è sobbarcato il peso del non lo so l'affitto il lavoro full time la crescita dei bambini baby sitter e cosa del jack chi è che si sta sobbarcando questa cosa ovviamente queste cinque donne ok quindi lui praticamente è come se avesse un harem di cui però non è responsabile perché lui facendo in questo modo qui non ha nessuna responsabilità su questi bambini su queste donne perché sicuramente lui non è che si che magari si mette a pagare le spese a tutte e cinque sarebbe pure impossibile insomma dovrebbe essere proprio Donald Trump questo quindi comunque questa cosa lui non la fa e quindi il prezzo di questa leggerezza chi lo sta pagando le donne e i figli no ma tu paghi innanzitutto un prezzo di tipo diciamo affettivo emotivo è la prima cosa che paghi ok quindi la prima cosa che è sbagliata è questa qui allora quando noi medivali scurantisti patercali eccetera eccetera tutte me le hanno dette ma ormai sono medaglie al valore queste qua ditemene più che potete quando noi medievale scurantiste vogliamo prima vedere determinate cose e poi e poi pensiamo al resto cioè quando voglio prima vedere tu che cosa porti sul tavolo in termini di impegno di coinvolgimento in termini di stabilità di sicurezza io lo faccio per una ragione molto semplice lo faccio perché so benissimo che facendo le cose in modo diverso poi mi troverei mi troverei veramente in cattive acque mi troverei nella melma cioè io so benissimo che se adesso comincio a fare due tre figli con uno che è il primo che passa che non mi dà nessun tipo di sicurezza che non mette nero su bianco le cose che vuole fare che non mi dice guarda tu vieni qua con me in questo modo in questa modalità in questa casa in questo posto con queste condizioni ok se lui non fa queste cose io non mi muovo ok quindi se tu sei una donna con un briciolo di cervello devi fare questo devi assolutamente diciamo pretendere tra virgolette queste cose ma non significa che non devi obbligare una persona devi semplicemente osservare quello che fa una persona cioè se una persona arriva fino in fondo con te come coppia innanzitutto perché la famiglia viene dopo tu devi accertarti di tutte le cose dal punto di vista proprio della coppia ok se tu ti accerti di questo allora questa persona potrà anche tu potrai anche andare avanti evolvere con questa persona ma queste persone qui adesso queste donne perché agiscono così perché loro sono state spinte si sono bevute ovviamente la propaganda secondo la quale poiché noi siamo donne indipendenti moderne e emancipate non abbiamo bisogno di queste garanzie perché tanto le garanzie le portiamo da sole ma non è vero non è così perché quando tu cominci a stare con i neonati le gravidanze magari la gravidanza che non ti va bene il neonato che è malato tutte queste cose qui tu cominci ad avere un periodo degli anni di vulnerabilità tale per cui tu non potrai contare su te stessa potrai contare solo sul marito possibilmente stabile forte dal punto di vista anche economico perché anche questo ci vuole perché se no non esci viva cioè quando tu hai un bambino di due mesi a casa che magari non sta bene che magari ha problemi eccetera eccetera tu mica ti puoi sciroppare dieci ore al lavoro perché quello non può pagare l'affitto cazzarola come fai come fai ok quindi tu praticamente devi badare a queste cose perché sono cose di vita pratica ok senza contare poi il lato il lato come dire di coinvolgimento di di affettività adesso questo tizio questo tizio perché ha fatto così cioè lui su che cosa ha fatto leva innanzitutto sul fatto che queste donne evidentemente fossero insicure perché essendo insicure loro avranno detto va bene adesso faccio il figlio con questo perché tanto più di questo non posso avere quindi devo farlo con un mezzo fallito che mi propone di fare questo figlio in maniera volante improvvisata senza avere garanzie di nessun tipo perfino pensate la numero 5 che ha accettato di fare il figlio con questo qui che aveva altri quattro figli con quattro donne diverse e in aggiunta a questo sapendo che lui non si era preso impegni e responsabilità con nessuna delle quattro precedenti quindi proprio stai proprio a terra bella mia quindi alla fine queste donne purtroppo le hanno convinte le hanno convinte di non aver bisogno di niente quando invece poi si ritrovano nella melma ok e questo che è successo quindi il fatto di accettare determinate condizioni deboli schifose sta praticamente rovinando le donne e i bambini ok questo sta succedendo le donne stanno accettando tutte queste cose orrende queste situazioni orrende in virtù proprio della loro della loro ideologia perché se loro non fanno così si sentono medievale e patriarcale avete capito com'è si sentono medievale e patriarcali perché no ma secondo te io ho bisogno di vedermi il ranello al dito per fare il bambino sì certo che hai bisogno di questo ne hai altamente bisogno perché tu vai ad affrontare dei periodi di vulnerabilità tali che ne hai bisogno e come tu devi vedere questo qua che impegno si prende che cosa ti porta sul tavolo perché diciamo a lui come uomo è richiesto questo ok a lui come uomo è richiesto questo a te è richiesto di alzarti pure alle tre di notte per allattare il bambino sicuramente e di fare altri cavoli ma a lui è richiesto questo quindi perché lui ha fatto questa cosa qui cioè perché molti fanno questa cosa qui cioè ti chiedono vanno direttamente al dopo senza andare un attimo al prima perché chiaramente loro così è come se se ne lavassero le mani della di tutte le condizioni che dovrebbero garantire ok questo qui ha detto a me non me ne frega tanto io queste cose non le voglio garantire a nessuno io la mia casa non voglio dividere con nessuno io non voglio portare sicurezza a nessuno perché non ne ho voglia o non ne sono capace non lo so quindi io praticamente cerco delle donne che siano in forte bisogno emotivo in forte bisogno di avere figli in forte bisogno di non stare da sole e quindi loro ci cascano ovviamente questo succede ok perciò io e la pakistana che pure è un'altra antiquata perciò noi diciamo sempre che bisogna scegliere l'ultima parola deve avere la razionalità purtroppo anche in queste cose anche se tu l'ami alla follia però lui ti propone queste condizioni del cavolo tu purtroppo ti dai una martellata sui denti e non le accetti perché non puoi poi essere trascinata nel baratro con questo qua perché per noi la scelta di un uomo è fondamentale non solo dal punto di vista affettivo ma anche dal punto di vista economico sociale di sicurezza di tutto se noi sbagliamo queste cose qui noi le paghiamo per tutta la nostra vita ok quindi questo succede allora quindi questo tizio che ripeto è un uomo quindi dal suo punto di vista potrebbe dire ah che bello io vado a fare Fiat ma che poi non me ne frego proprio ho marcato il territorio invece non lo dice lui ha detto state attenti a queste cose qui perché lui ci ha riportato come prima cosa il suo punto di vista maschile che non è assolutamente come dire che non è influenzato no dalla sicuramente da quello che posso pensare io quindi lui ci ha riportato un qualcosa che pensa lui stesso per primo lui ha detto io quando ho incontrato questa qui che è la moglie io come prima cosa ho pensato alla coppia a cosa a cosa come dire ho pensato a come far stare bene noi due come coppia a proteggere lei ok a far stare in una situazione di sicurezza perché anche la gravidanza se voi pensate la gravità questa e qua come si sono fatte la gravidanza magari nel loro scantinato a vedere ogni tanto questo così se dovevano andare da qualche medico magari ci andavano da sole se dovevano se avevano bisogno di qualcosa se hanno il bambino con la febbre adesso va bene se hanno un bambino con la febbre queste qua si fregano perché non è che possono contare magari su un marito che va a comprare le medicine no no chiaramente non lo possono fare magari si imbaruccano il bambino anche alle nove di sera sotto la pioggia vanno a comprare la medicina perché stanno da sole ok questa è una cosa altamente rischiosa altamente rischiosa e quindi oppure loro devono fare il turno di dieci ore perché se no non pagano l'affitto e se questo bambino è malato si frega praticamente va all'asilo lo stesso quindi è tutto cioè è tutta una una conseguenza sono sono conseguenze comunque bravi che tu ti porti avanti quindi possibilmente senza farsi senza farsi fregare come al solito da tutta questa propaganda farlocca per cui se tu chiedi delle certezze se è antiquata o medievale sì 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 non ti preoccupare se è antiquata o medievale però io voglio le cose come si deve tu prima di parlare dei bambini bellissimo tutto quello che vuoi però io voglio sapere concretamente dove io questi bambini dove li faccio dove vado a stare ce l'ho anche sulla testa dove come quando ce l'hai la possibilità economica se io sto male dentro al letto di non farci morire a tutti qua questo bisogna purtroppo cari cari amici purtroppo è così che bisogna fare le condizioni a contorno sono fondamentali perché guardate che anche due cuori è una capanna non è che funzioni tanto ok cioè quando io sto in situazioni di pericolo perché magari ho il bambino malato e non posso compagni le medicine perché magari non riusciamo a pagare l'affitto che ci buttano fuori quando io sto in queste situazioni di pericolo non è che la cosa il rapporto va tanto bene non vi credete perché poi subentrano tutte queste problematiche subentrano lo stress l'ansia subentrano tutte queste modalità di sopravvivenza come dire adrenergiche di come dire di di cortisolo ok di stress che poi fanno naufragare tutto anche la coppia per forza assolutamente si naufraga tutti insieme e naufragano anche i bambini ovviamente quindi bisogna fare molta attenzione a non accettare queste condizioni precarie del cavolo e bisogna imparare finalmente se ci riuscite a capire che l'uomo deve portare delle sicurezze in questi termini perché voi anche se fate il cardiochirurgo quello che cavolo volete fare verranno dei periodi in cui sarete vulnerabili in cui avrete bisogno di una figura forte vicino ok non verranno dei periodi in cui voi non potrete contare su voi stesse ok e non solo non potete contare su voi stesse ma contemporaneamente sarete la sopravvivenza di un bambino sarete la fonte di sopravvivenza di un bambino quindi voi a vostra volta dovete avere il provider il protector cioè l'uomo il cavernicolo chiamatelo come vi pare ma dovete avere questo tipo di persona forte vicino che non vi fa andare a dormire per strada praticamente ok perciò i ruoli di genere funzionano questi sono i ruoli di genere quindi lui all'uomo questo è il richiesto all'uomo è il richiesto questo cioè di portare sicurezza economica e sociale ok all'uomo non deve essere richiesto di lavare a terra quando torna la sera dal lavoro non deve essere richiesto di stirarsi la camicia per andare in ufficio non deve essere richiesto nessuna di queste cose perché non le deve fare perché lui già pensa a tutto il grosso ha tutta la parte economica chiaramente dobbiamo sempre ribadire non è che adesso lui non si può lavare un piatto se lo vuole fare ma il problema è che deve essere una cosa proprio un'eccezione ma non è che tutto il giorno tutti i giorni lui lava a terra lava i piatti e fa la papina al bambino ok questa cosa è richiesta a noi prevalentemente a noi perché se non ci si divide i compiti per lo meno al 70% ok io non voglio dire per forza 100% ma almeno al 70-80% si ok quindi e tenere sempre presente che la donna può andare incontro a periodi in cui può essere improduttiva può essere molto vulnerabile e quindi non fare neanche più il part time o l'attività o quello che cavolo ha perché magari può avere il bambino malato può avere la gravidanza che non le va bene può avere tutti questi cavoli per cui in quel caso sarà necessario per lei avere una figura molto forte vicino ok quindi questi sono i ruoli di genere non è niente di quello che vi credete voi il patriarcato tutte queste cavolate che poi il patriarcato funzionava perché andate a vedere gli uomini del cosiddetto patriarcato se avevano le mogli in pericolo che dovevano andare fino alle 10 di sera a fare le cassiere se no loro non pagavano le bollette assolutamente no perché loro anche là c'era una forte componente razionale anzi là c'erano spesso i matrimoni combinati che funzionavano non vi credete funzionavano perché quando voi fate il matrimonio combinato come quello lì di madati il ranocchio il matrimonio combinato tutte queste cose sono ben chiarite prima ok quelle che fanno anche in India adesso in questi posti qua cioè la famiglia della ragazza quando c'è quando lui va a chiedere la mano della ragazza la famiglia dice ok vieni qua fammi vedere tu fammi vedere un attimo che garanzie offri a mia figlia fammi vedere ce l'hai un tetto da metterle sulla testa ce l'hai una situazione economica buona se i bambini sono malati che fai andate tutti quanti per strada loro questo fanno e la famiglia di lei la famiglia di lui ovviamente vado ad accertare che lei non sia una sciagurata che magari la butta i bambini da qualche parte no quindi entrambi vanno ad accertarsi dei ruoli se loro possono stare in quei ruoli ok se io non so fare neanche un uovo sodo oppure se io non sono in grado di la sera me ne voglio andare in discoteca e lascio il bambino senza averlo fatto mangiare per esempio e loro vanno a vedere queste cose dicono bello tu a questa non te la devi sposare perché questa è una sciagurata ti fa morire i figli ecco io li faccio morire per questo motivo e lui me li farebbe morire perché magari non può pagare l'affitto ok quindi queste cose bisogna vederle queste sono tutte cavolà queste cose moderniste e femministe e progressiste stanno portando dei guai dei disagi enormi alle donne e bambini in primis alle donne in primis alle donne avete capito perché loro si fregano chi è che adesso in questa storia si sta fregando quelle cinque donne perché nessuna di loro ha la sicurezza di una persona vicino e tutte e cinque si sono fatte queste gravidanze del cavolo in modalità proprio così improvvisata dentro allo scantinato adesso se una di loro ha il bambino malato ma questo quando si ricorda di andare ma non è che lui sta a casa sua per cavoli suoi non se ne importa proprio se ha tempo di andare se no se lui la sera sta al pub a bersi la birra non se ne importa proprio quello è malato se lo deve piangere lei ok questo è successo e quindi queste cose sono altamente sconvenienti allora ricordatevi che tutto ciò allora tutto ciò che ci propina la propaganda in tutti i sensi è una fregatura va contro di noi non bisogna assolutamente ascoltare questi mentecatti che ci stanno propinando delle cose oscene questo pure è la stessa cosa perché queste sono le femministe in genere che fanno queste cose qua le femministe che poi buttano i bambini e gli asini anche perché certe volte non sanno come altro cioè queste cinque donne per forza dovranno avere i figli che crescono nell'asilo ma dove altro potrebbero crescere ma è normale tu non hai alternativa tu devi lavorare fino alle dieci di sera per pagarti l'affitto dello scantinato e quindi i tuoi figli devono crescere per forza nell'asilo se invece tu hai un uomo forte vicino non devono crescere negli asili perché magari tu puoi fare il part time perché magari tu puoi fare un'attività più leggera perché magari te li puoi crescere a casa e quindi le cose cambiano parecchio cambiano di moltissimo le cose ok è una catastrofe quello che stanno creando per non parlare per non parlare di tutta la pubblicità che fanno alla maternità da single non ne parliamo proprio è la stessa cosa che tu ti fai arrivare il kit di riproduzione a casa oppure alla banca dei gameti perché tu da sola io mi besto da sola ma non è vero non è vera questa cosa cioè cercate di imbedesimarvi in queste situazioni vedete che farete cioè queste donne fanno una vita da schifo ok fanno una vita molto dura stressante hanno sulle spalle dei pesi enormi delle responsabilità enormi e non hanno neanche il compenso affettivo di un marito che sta vicino di una di una coppia non hanno questa cosa qui ok quindi molto pericolosa questa cosa moltissimo pericolosa non è né senza contare che questi bambini crescono senza padre non ne parliamo proprio quindi questa non è nessuna emancipazione bella e divertente è una catastrofe quindi cercate di se lo dice questo qua che è un uomo che potrebbe approfittare potrebbe dire ah che bello finalmente queste mi fanno fare il cavolo che voglio e io me ne lavo le mani per dirlo lui insomma vedete un po' se è normale va bene mi raccomando rifletteteci rifletteteci perché le cose non sono positive è Grazie.